Bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo su GTA V Online In questa nuova attività è Runners vs Krieger, da quel che mi ricordo Comunque, allora, qui abbiamo un mini parkour, già all'inizio ragazzi, mi piace Abbiamo la visuale un po' lontana, ok, ora ce l'abbiamo a posto Allora, non ci dobbiamo fare investire subito, anche perché sotto c'è l'acqua C'è l'acqua, c'è la struttura e sotto l'acqua, mamma mia come ero rischiato, mamma mia Comunque, intorno ci sono gli alieni, turbo, sotto il laghetto con la piattaforma E io devo imparare a starmene zitto Grazie mille Pasqui, ti voglio bene pure io Allora, il compagno ce la sta facendo in teoria, cioè non gli vorrei dare la maledizione che voi conoscete bene Che io tengo la famosa maledizione che porta sfortuna a tutti, appunto Devo imparare a starmene zitto Rimane questo qui, vivo, se farà vincere tutti è un grande questo Ma molto difficile che farà vincere tutti, appunto ragazzi Quindi questo ormai è morto, quindi penso proprio squadra perdente Quindi, infatti, round perdente, prossimo round Ok, eccoci qua con il secondo round Allora, cerchiamo di vincerlo Allora, secondo voi lo vinceremo il round o la partita? Chissà, non lo so Allora, voglio prendere questa verde lime No, 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 lo voglio io, lo voglio io, lo voglio io, vieni qua Ok, grazie mille per la macchina, gentilissimo Allora, andiamo Allora, io faccio la miniatura, visto che ci sono Allora, già questo Pasqui, miniatura con te Allora, oh, 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 oh Era Pasqui, attenzione Pasqui, mamma mia, Pasqui Se ti beccavo, se ti beccavo, mamma mia Allora, avete visto che laggata che ha tirato la play? Allora, risaliamo su Anche qui ci sono le auto sotto la rampa Mamma mia Sono rimbalzato nella gomma, però va più che bene Allora, c'è questo qua, l'avversario Che non si aspetta che io stavo per citare, ma ho fallito Però va più che bene Allora, risaliamo su come al solito E mi sa che proprio perderemo questa partita Perché c'è già qualche avversario là in fondo Che è quasi arrivato Tipo questo Allora, è un tacchettino quello, grandissimo Fulmine Grandissimo fulmine vestito da tacchettino Vieni qua Pasqui Vabbè Aspetta, aspetta un attimo, aspetta un attimo Pasqui Mamma mia, Pasqui Pasqui Che fortuna Mamma mia, regà Pasqui è una fortuna Micidiale Ma di quelli Però Attenzione che non è ancora arrivato le armi Quindi Pasqui Non cantare vittoria Che Può essere che perderai Può essere che perderai Quindi Attento Attento Comunque Pasqui va Va giù Stavo per dire Pasqui va Ci va duro Ci va duro Allora Attenzione Qui c'è un avversario Non so se è caduto Però Lì Aspettate 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 Regà Ma Quanto è il suo nabbo da 1.10 20.000 Vero Allora Io proporrei una bella citata ragazzi Qualcuno ha citato quelle armi? No Regà Cioè Se dovete citare Non citate nemmeno Cioè Non è entrata nemmeno negli ETS Se dovete citare A parte che ho citato pure Quindi non dovrei parlare Però Va bene Allora Facciamo cadere questo Oh Che è la maledizione questo Che non si può toccare questo Comunque Allora Chi è quello che è citato? Vorrei vedere il nome Dai dai Li facciamo credere di Che può venire Dai vieni vieni Ti lascio passare Ti lascio passare Lui convinto forse Dai dai Passa Passa No Ah Sì 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 Sono riuscito a beccarlo Ok Eh sì L'uccisione però Oh No 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 Io Io non ho parole ragazzi Ora se quell'avversario Arriva agli armi Siamo fregati Siamo totalmente fregati Siamo fregati Fregati Non siamo più fregati forse No 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 Ah 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 No Mamma mia Mamma mia Regà Ho salvato la mia squadra All'ultimo Mamma mia Allora comunque Non è che posso prendere l'arma pure io qua Si può citare? Cos'è un anti-cheat? Sì ragazzi Questo è un anti-cheat Quindi Non si può citare Ah beh Almeno una cosa positiva È questa Meno male Meno male Meno male Però Devo riprendere la mia auto Cos'è successo? Vincitore Mamma mia Prossimo round Ok Riegaci qua con il terzo E forse Ultimo round Chi vince questo? Forse vince tutto ragazzi Non mi ricordo più niente Chi ha perso Chi ha vinto Ma poco importa Allora Prendiamo le pistoline Perfetto Perfetto Allora Andiamo Andiamo avanti Oh Vai 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 Gli altri sono ancora fermi lì Forse stanno provando A andare a citare Ma Mi dispiace Mi dispiace Non si può citare Guardateli tutti Tutti convinti Che si può citare Ma meglio per noi Meglio per noi Così possiamo vincere Mamma mia Oh E' impazzito questo Allora comunque Andiamo Stavo per cadere malamente Allora Facciamo attenzione a questo Che Vuole ammazzarmi Chi è? Pasqui? Eh sì È Pasqui ragazzi Facciamo attenzione Gli altri convinti Che si può citare Ma Mi dispiace Non si può citare Qualche avversario Ho sentito che Ha la pistolina C'è qualcuno Tipo che Ha fatto il glitch Del motoseclo club Ma Ma Oh mamma mia Ma Ragazzi Non vale la pena Fare questi glitch Non c'è divertimento Non c'è divertimento Io intanto Ce la sto facendo Quindi Facciamo attenzione Ragazzi Se mi uccidono Con la pistolina Veramente Mi arrabbio L'ho gufata Volete vedere Appunto Avete sentito? Speriamo che non ci beccano Buono Allora C'è questo compagno qua Che potrebbe farcela Speriamo Conto Sulla mia squadra Speriamo che portano a casa La vittoria Non lo so Speriamo Tanto hanno 6 minuti Di tempo Questo va giù Va giù però Dai Risali compagno Risali Questo non sa nemmeno Risalire Vai prendi in giro No No Non da questa parte Devi salire Neanche da questo Devi salire Perfetto Dai Vai avanti Manchi solo Tu Conto su di te Dai Compagno Per favore Portaci A casa Questa Vittoria O questa perdita Una delle due Sicuramente Succederà Allora C'è questo Che Mamma mia Fai capricci Cioè Per forza Ammazzarlo Però Attenzione Che il compagno È caduto giusto Per dire Damate alle armi Ma Magari Comunque In teoria Abbiamo perso la partita Vediamo un po' Ah no Round perdente Quindi Attenzione Un altro round Da giocarci Ok Eccoci qua Con il quarto round Allora Se vincono gli avversari Abbiamo perso la partita Se vinciamo Ne faremo Un'altra di partita Spero di non farne tante Perché Dopo un po' Tante partite Scoccia Intanto andiamo subito Dagli avversari Allora Venite qua Venite qua Vi accolgo io Vi accolgo io A Pasquio A Pasquio A Pasquio Mamma mia Mamma mia Se a Pasquio Lo beccavo ragazzi Mi vendicavo Per prima Perché Pasquio Mi aveva ammazzato Prima se non mi sbaglio Pasquio Mi aveva ammazzato Qui c'è un maledetto Qui c'è un maledetto Aspetta 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 Mo 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 Oh 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 Regà Quel compagno Con la macchina Era un palo Proprio Anche se L'ho beccato Era fermo lì Vabbè ci vediamo sopra Allora Vediamo un po' Vediamo un po' Qui c'è Chi è questo Pasquio Sempre lui Pasquio Ma Mi sa che Vuoi essere Ucciso Vuoi essere Ucciso Signor Pasquio Come non è morto Come non è morto Andiamo subito su Immediatamente Col trick Avanti Comunque Se volete partecipare Alle attività Come Questi membri Da Crew Ragazzi Il link Della Crew E' in descrizione Quindi fate richiesta Per entrare Che vi accetto Aspetta Mamma mia Se tiravi fuori la testa Prima ragazzi A questo Proprio Li si staccava Comunque ci vediamo su Oh Qui voglio citare Per forza Mi dispiace Ma Mi dispiace Fulmine Mamma mia Qui proprio La squadrona Ragazzi Tug life Cioè In due A buttarlo giù Fulmine Scusami Ma la mia squadra Ha Proveduto Qui Che che manca Due Nemici Legendary E l'altro Nemico Quindi aspettiamoli Eccolo qua Legendary Vieni qua Vieni qua Ti lascio passare Ti lascio passare Vieni qua Vieni Vieni Ti lascio passare Allora faccio Allora faccio Un trucco Guarda Chi è sto maledetto Che mi cecchina Chi è Perché qualcuno Mi cecchina Cioè se scopro Chi è che sta citando A parte che non dovrei parlare Perché pure io Ho citato Però va bene Però io sto citando In modo legit Quello Prende le armi Appunto Vedete Ah ma questo È proprio arrivato alle armi Era nascosto al radar Questo Boh raga Non mi chiedete niente E infatti Per forza Accettato Perché guardate Qua L'anticite è ancora sopra Quindi per forza Doveva farlo cadere Per salire alle armi Quindi Accettato per forza Eh raga Abbiamo perso Mi sa Abbiamo perso Però attenzione Perché il nemico Potrebbe far cadere queste Così il mio compagno Sale No però Lo potevi lasciare Così faceva cadere Quelle robe E tu salivi con lui Prendevi le armi E lo uccidevi E raga Questo non è Non è un genio Non pensa a questo Non pensa Alle soluzioni Però Tanto Abbiamo perso la partita E niente Hanno ammazzato Il mio compagno Va bene Va bene Abbiamo perso Proprio La partita Ora Andiamo a rigiocarci La partita Però Notte Piovoso Temporale Un round Però Un round Ok ragazzi Eccoci qui Con la nuova partita Notte Piovoso Temporale Da come promesso Però Ci riprenderemo Tutto quello Che abbiamo perso Che abbiamo perso Prima Ragazzi Tranquilli Vi prometterò Che vinceremo Questa partita Perché anche Sono con la squadra Dei pro Quindi Allora Partiamo Qui ci sono già subito Alcuni Da uccidere Però Aspettate un attimo Aspettate un attimo La mia macchina Manco arriva là È perché Ha slittato Con la pioggia Ragazzi Ha slittato Con la pioggia Un dos Qua Ok Allora Dobbiamo salire su Comunque Vi ricordo Se volete Altri video Di altre attività Drag race Gare Lasciate sempre Un like Ragazzi Supportate Il tagchettino Che vi porta Sempre video Non vi fa Mancare niente Il tagchettino Ragazzi Quindi Lasciate un like Sostenetelo Condividete Però attenzione Che ce n'è uno Ok Aspettate Aspettate Eh Aspetta Mamma mia Vai giù Vai giù Vai giù Tu vai giù Sì 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 Tu 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 Vieni 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 È caduto Che fortunato Sono ancora qui Vabbè io ricito Nessun problema Ok Alla perfezione Mo li voglio vedere Ora Mo li voglio vedere Vieni qua Vieni qua Vai Vieni 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 Ora vi faccio vedere Un trucco Vado in pausa Così loro vengono da me Tipo guardate Tipo Mo Ok Ha citato uno davanti da me Legendary Ah Legendary Mamma mia Che cittone Ma peccato che non si può citare qua Mi sa proprio che non si può citare Uh attento Un compagno Ha beccato un nemico Dentro la cabina Non so neanche io Com'è possibile Però Va Vabbè No raga Non ci credo Quello Ha iniziato a muoversi Quando io stavo per cadere Mamma mia Cioè In più la mia macchina È rimasta impantanata qua Ma io non ci credo Raga Questa macchina qua Fa veramente schifo Io non c'ho parole Prendiamo questa macchina qua Allora Meno male che l'hanno buttata Se no Io S'è rimasto a piedi Comunque Due nemici ancora vivi Di cui uno Forse è arrivato alle armi Non ditemi sta cosa Uh Uh Il compagno Legendary Ha ucciso Un nemico Grandissimo Legendary Grandissimo Allora Sì però Qua Devo salire Perché il nemico Sta arrivando alle armi Mi sa Eh No no Sta arrivando È arrivato Però aspettate Aspettate che Il taggettino Lo potrebbe fregare Uh Questo Però Aspettate Che è successo Vincitore Il nemico Si è suicidato Ragazzi Io vi ho detto Vi ho promesso Che vinceremo E abbiamo vinto Ragazzi Fantastico Se vi è piaciuto il video Lasciate il like Iscrivetevi Condividete E noi ci vediamo Alla prossima Bella Reghe Alla prossima Alla prossima